La prima necessità è che il padre sia presente nella famiglia, che sia vicino alla moglie per condividere tutto e che sia vicino ai figli nella crescita. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechese dell'Udienza Generale, tenuta in Aula Paolo VI davanti a più di 8.000 fedeli, nella quale ha offerto la seconda parte della sua riflessione sulla figura del padre di famiglia. Il Pontefice si è soffermato sulle qualità del padre saggio, che sa tendere, perdonare, ma sa anche correggere con fermezza, senza essere debole, arrendevole e sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi. Deve essere presente senza essere controllore per lasciar crescere i figli e deve saper aspettare con pazienza, dolcezza, magnanimità e misericordia come il padre misericordioso del figlio prodigo. Senza la grazia che viene dal padre che sta nei cieli, i padri perdono coraggio e abbandonano il campo. Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro falimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno. E il non trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare. Un padre saggio, ha spiegato ancora Papa Francesco, deve trasmettere ai figli la capacità di agire con saggezza e parlare con rettitudine, come si legge nel Libro dei Proverbi. E la Chiesa è impegnata a sostenere questa presenza buona e generosa dei padri e nelle famiglie, perché essi sono per i giovani custodi e mediatori della fede nella bontà di Dio, come San Giuseppe.